Segreteria provinciale e comunale, la riorganizzazione del Partito Democratico dopo la botta presa alle comunali passa anche per questi due step. Per la provinciale è quasi certa la candidatura del segretario comunale del PD Stefano Albano, per la segreteria comunale la candidatura dell'ex sindaco Massimo Cialente che ha deciso di tornare in campo ha spiazzato un po' tutti, ma non sarà solo perché lo sfiderà l'ex assessore Maurizio Capri e probabilmente scenderà in campo anche l'ex assessore Emanuela di Giovanni Battista. Per il momento sereno ci sono state le prime candidature, non è escluso che ce ne siano anche altre, insomma c'è del tempo, è chiaro che si comincia a entrare nell'ambito di una discussione, di un confronto che secondo me è utile oltre che necessario per il fatto che usciamo da una sconfitta alle elezioni, ci sono stati sicuramente dei risvolti negativi anche rispetto all'elettorato e quindi è giusto appunto fermarci attraverso un confronto vero, sincero, a capire le ragioni della sconfitta, ma soprattutto con quali strumenti, con quale rinnovato entusiasmo e programmi affrontiamo questa nuova fase. Lo scontro aquilano dovrebbe giocarsi anche dentro quello delle correnti nazionali, Cialente, Albano e la di Giovanni Battista sono orlandiani, mentre Capri e Renziano come di Benedetto, il grande sconfitto alle comunali. Sa tanto di resa dei conti, mentre la xindaco Cialente tira in ballo i vecchi del partito e questo a molti non è piaciuto. Questa forse è la parte che condivido meno del suo intervento, perché del resto nessuno mai ha chiuso le porte ai vecchi compagni, ai vecchi tesserati che sono sempre stati considerati una risorsa. Di fatto, nella fisiologia delle cose, oggi bisognerebbe invece puntare ad aprire il partito anche alle giovani energie, perché è un processo naturale che va alimentato. Pensare di guardare soltanto ai vecchi ricordi senza capire che oggi probabilmente occorre pensare ad un partito che anche nella sua forma sia più attraente, attrattivo per i giovani, quindi capire con quale forma esserlo è sicuramente il punto centrale, secondo me, quindi bene, ma non c'è mai stata una chiusura sui tesserati storici, però dobbiamo guardare con molta attenzione alle nuove energie.